Buona giornata e benvenuti a TGFF, un TGFF dedicato interamente allo spettacolo attesissimo Svelarsi. Dopo il successo della passata stagione con i sold out allo spazio Rossolini a Roma e al Teatro Carcano di Milano, torna quindi in scena Svelarsi, serata evento per sole donne o chi si sente tale, ideato e diretto da Silvia Gallerano. Il 21 e 22 novembre lo spettacolo sarà in scena a Genova al Teatro Mercato, ospite del Teatro Nazionale nell'ambito appunto del Festival dell'Escerenza al Femminile. Svelarsi è un percorso di ricerca, per questo si rivolge a un pubblico esclusivamente di donne, cis, trans e non binarie, tutte quelle che si sentono e si definiscono donne. Un senso di invasione, una mancanza di spazio, una compressione da una perla. Lo spettacolo racconta la cultura patriarcale che ancora ci circonda, insegna alle donne sin da piccole a limitare i propri desideri di potenza, ad accettare in posizione di campo da parte dell'altro sesso, dove il campo è il corpo e mettersi in disparte e per senso di costruzione spesso a esplodere. Il lavoro di... Solo corpi femminili, è questo l'esperimento. Si tratta di una chiamata, risponde chi se la sente. Non è per tutti, è per chi ha voglia di incontrarci. Non ci mostriamo come animali di uno zoo. Accogliamo chi è interessata da rispecchiarsi. Ci sono parole, tante, che coprono, che proteggono i corpi. E poi ci sono i corpi, così come li guardiamo allo specchio quando ci svegliamo, prima di camuffarli per camminare in mezzo agli altri. Sai quando si dice, immagina una persona che ti fa paura mentre annuda, per smontarla, per vedere che è composta dagli stessi pezzi che compongono te. Ecco, noi ci spogliamo proprio. I nostri pezzi li mostriamo tutti. E come i nostri corpi mostrati a pezzi, così si presenta il lavoro. Sono una grandica, 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 sono una grandica. Il lavoro di scrittura è condiviso ogni attrice ha scritto con le parole, con il proprio corpo, la presenza in scena. La scrittura è soprattutto di corpi e in questo momento si svelano rivelandosi la vera essenza. Insomma, lo spettacolo svelarsi è una serata evento per sole e donne e per chi si sente tale. Appuntamento quindi nei giorni 21 e 22 novembre alla Sala Mercato accanto al Teatro Modena. Ma fate presto, i posti sono quasi esauriti. Buon proseguimento di giornata. Buon proseguimento di giornata.